Incrociare una realtà come quella di ADP che riteniamo abbia delle caratteristiche utili alla gestione delle risorse umane intese come struttura complessiva di un'agenzia per il lavoro che per la stragrande quantità delle risorse sono risorse somministrate alle aziende terze. Quindi chiaramente processi di gestione e di conduzione della nostra realtà che possono avvalersi di esperienze sul campo di società come ADP che certamente possono dare un valore aggiunto al riposizionamento che periodicamente credo sia opportuno almeno valutare se non poi concretamente realizzare.